salve in questo video vedremo come consegnare un compito quando saremo dentro la nostra aula virtuale cerchiamo il modulo in cui stiamo lavorando e qui cerchiamo l'attività compito l'attività compito è contrassegnata da quest'icona che è una mano che consegna appunto un documento un elaborato clicchiamo sull'attività in questa schermata vedremo le istruzioni e più giù vedremo le informazioni sulla consegna del nostro compito siccome non abbiamo ancora consegnato il compito nello stato di consegna dice nessun tentativo e anche per quanto riguarda la valutazione non abbiamo ancora informazioni quando avremo consegnato il compito e questo sarà stato valutato queste informazioni cambieranno per sapere la valutazione del nostro compito dovremo vedere qui nello stato di valutazione abbiamo anche informazioni sulla data entro la quale dobbiamo consegnare il compito abbiamo anche informazioni sui criteri di valutazione e se andiamo ancora giù troviamo aggiungi consegna per consegnare il nostro compito dobbiamo cliccare su aggiungi consegna e qui abbiamo due possibilità possiamo scrivere il nostro testo online quindi possiamo scrivere il nostro compito direttamente qua sull'editor o possiamo allegare un file in questo caso dobbiamo andare in questo riquadro cliccare su quest'icona e così potremmo allegare il nostro file per inviarlo dobbiamo cliccare su salva modifiche se il compito che dobbiamo consegnare non è un compito scritto ma è un audio possiamo fare lo stesso quindi possiamo aggiungere un file con il nostro audio che abbiamo previamente registrato o possiamo anche registrare direttamente il nostro audio qua nel riquadro di testo online dobbiamo semplicemente cliccare sull'icona del microfono avvia registrazione quindi registriamo il nostro audio ci clicchiamo di nuovo per fermare la registrazione e qui clicchiamo su allega registrazione poi semplicemente dovremmo cliccare su salva modifiche e dopo avremo ancora 30 minuti per modificare la nostra consegna o eliminarla dobbiamo sempre confermare le nostre scelte grazie 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 grazie